Buonasera, benvenuti e benvenute al seminario del professor Pietro Montani che reca per titolo La critica della facoltà di giudizio di Kant e la sua ricezione. Per noi è un grande piacere avere di nuovo con noi Pietro Montani che in questi anni ci sta accompagnando in un percorso di grande interesse che a partire dalla rielaborazione critica dell'approccio kantiano si spinge ad affrontare questioni invece attualissime che riguardano ad esempio gli sviluppi della tecnologia, le nuove forme della comunicazione, le nuove forme della fruizione e della produzione estetica. Il seminario di questi giorni rispetto a quanto abbiamo avuto già modo di sentire in occasioni passate in qualche modo va alla radice di tutto questo, cioè torna sui fondamentali della lettura di Kant e in particolare della lettura della terza critica che per Pietro Montani e per un anche vasto filone di ricerca attuale ha una rilevanza fondamentale per la rilettura odierna del trascendentale, potrei dire. Vorrei ricordare che questo seminario si inscrive anche a un format che abbiamo inaugurato o meglio particolarmente incoraggiato in quest'anno che è quello di affrontare una lettura ravvicinata di un testo classico per considerarne poi anche aspetti della ricezione. L'idea è evidentemente quella di evitare un approccio esclusivamente archeologico ma diciamo così piuttosto di non saltare il passaggio del contatto diretto con il testo per tuttavia tener fermo all'idea che il testo si rinnoverà continuamente attraverso le nostre letture le nostre letture e le più importanti letture che di certi testi sono state date almeno per esempio nel Novecento. Quindi oggi il nostro incontro si chiuderà alle 17 e quindi avremo modo di ascoltare l'esposizione del professor Montani e rimandando la discussione ai prossimi giorni visto che abbiamo la fortuna di poter stare insieme fino a venerdì. Quindi grazie, grazie per essere qui. Prego, ti lascio volentieri la parola. Poteva dire meglio, anche io sono molto felice di essere qua finalmente in persona perché fin qui ho collaborato da remoto, come si dice. Dunque adesso parto da alcuni chiarimenti, specificazioni di quanto la professoressa Livigni vi ha già detto e in particolare, ma condivido subito il mio schermo perché ho un PowerPoint che ci aiuterà oggi piuttosto scritto da domani in poi più ricco di immagini come io prediligo ma oggi dobbiamo impostare il problema anche con un contributo testuale significativo vorrei condividere due premesse appunto proprio relative a quel lavoro di ripresa, attualizzazione, far funzionare i testi nel presente eccetera di cui ci ha parlato adesso Fiorinda Livigni e queste due opzioni sono le seguenti che però qui non compaiono come è possibile ah no, eccole, scusate c'è sempre qualche piccolo dunque, la prima è quella dell'attualità della filosofia critica ecco, la chiamo così l'idea è che la filosofia critica non definisca soltanto la specifica tradizione del pensiero kantiano quella nata con la svolta copernicana di cui Kant parla all'inizio della prima critica della ragion pura ma anche un modo caratteristico di pensare un modo di pensare che tipo di modo di pensare? ecco, per dirlo senza troppi giri di parole e senza troppe cautele un modo di pensare che si oppone a ogni metafisica cioè la pretesa di definire l'ente senza preliminarmente fornire il quadro della definizione quindi si oppone ad ogni metafisica in nome di un principio che si potrebbe enunciare nella frase che leggete lì su nessuna ontologia a meno di una epistemologia preliminare che cosa vuol dire questo? in termini più o meno kantiani ma sempre con un linguaggio diverso da quello di Kant che nessuna risposta alla domanda su che cos'è l'ente che è la domanda dell'ontologia da sempre a meno di una interrogazione preliminare sulle condizioni di possibilità e i limiti del modo di incontrare qui aggiungo qualche cosa che è apparentemente un po' meno kantiano ma che ritroveremo testualmente in Kant di incontrare e di manipolare l'ente nonché di farsene modificare non arrivo a dire manipolare ma lo potrei fare caratteristico dell'essere umano e non di altri viventi caratteristico dell'essere umano ma non di altri viventi allora con altrettanta schiettezza queste sono opzioni contestabili per cui mi aspetto che ci possa essere discussione e anzi auspico che ci sia nessuna risposta alla domanda su che cos'è l'ente a meno di queste condizioni con altrettanta schiettezza pronunciarsi oggi a favore di un modo di pensare critico significa respingere e questa è la pars destruens respingere il progetto o meglio i diversi progetti oggi molto alla page di una ontologia non correlazionista Kant essendo il filosofo correlazionista per eccellenza troveremo oggi stesso un passaggio straordinario in cui esce tra pochissimo questo tema della correlazione o naturalmente a chi penso penso al realismo speculativo penso alla object oriented ontology eccetera in parte alle posizioni di Ferraris con cui ho un dialogo attivo da almeno 40 anni e che sono posizioni che si modificano molto più rapidamente di quanto lo stesso autore non si è incline a denunciare se volete ci torneremo anche perché Ferraris spesso lo ascoltate anche qua e ripeto è una persona con cui è attivo un dialogo quindi da un lato dall'altro dall'altro quelle metafisiche misticheggianti anche queste oggi molto alla moda a favore di un modo di pensare di pensare che io definisco passatemi questa butade antropocentrifugo tutti ci siamo messi in paura dei guasti fatti dall'essere umano e coltiviamo questo terribile complesso di colpa che spesso ci impedisce di agire criticamente quindi anche questo le ontologie pure semplici senza preliminari epistemologie la mistica dell'antropocentrifugamento come dire dell'antropo si lo so però devo devo mettere le mie insegne qua devo dire che sono della Roma perché se qualcuno mi viene a parlaracci come facciamo sono della Roma tra l'altro sono della Roma certamente la filosofia critica per eccellenza è una filosofia correlazionista vi dicevo tra poco incontriamo un passo straordinario in cui questa cosa viene fuori in modo radicale la nostra conoscenza si limita al modo la nostra conoscenza oggettiva naturalmente non stiamo facendo portando acqua al mulino dello scettico che appunto Kant vuole disarticolare anche se ne riconosce pensate a Chium i grandi meriti la nostra conoscenza si limita al modo in cui l'ente può diventare oggetto di un accertamento positivo positivo oggettivo da un punto di vista complementare si può anche dire e questo interessa a me in particolare anche in rapporto ad altri discussioni che sono state fatte proprio in questa sede per esempio sulla linguistica che i significati linguistici non denotano le cose denotano il modo in cui le cose diventano oggetto di riferimento e di manipolazione tant'è vero che assai saggiamente come fa notare Heidegger in tante occasioni i greci le cose le chiamavano pragmata cioè roba con cui ho a che fare e avendoci a che fare sono qualche cosa che risulta da operazioni costruttive di carattere cognitivo ma anche costruttive di carattere manipolativo attenzione qui a un punto che mi sta molto a cuore e che mi faccio aiutare per condividerlo con voi da un autore per me molto importante che ritornerà in questo seminario più avanti naturalmente l'Ambros Malafuris autore di questo libro molto bello che si chiama How Things Shape The Mind è curioso che nella copertina che voi vedete spero che la vediate bene succede una cosa un po' diversa che potrebbe essere descritta come How Hands Shape The Things che è una copertina dunque ipercorrelazionista è ben vero che le cose modellano la mia mente ma è anche vero che in questa interattività la mia mente modella il mondo c'è un rapporto biunivio un rapporto come dirò spesso di coevoluzione e questo è tipico dell'essere umano certamente non è tipico del baco da seta che fa un'altra vita allora cosa dice Malafuris lo dicono in tanti ma lo dice Malafuris con particolare con particolare autorevolezza essendo autore che apparentemente si collega in una prospettiva diversa dalla mia ma non è così dice che to engage in antropocentrism is to perceive the humans at the center of reality to engage in antropomorfism tutta un'altra cosa e quindi esporsi con l'antropocentrismo significa una sciocchezza mettere l'uomo al centro del mondo che è una stupidaggine to engage in antropomorfism is to perceive reality in human terms e aggiunge Malafuris che sarebbe impossibile anche solo immaginare che cosa significherebbe per noi umani vivere e pensare in assenza dell'apparato metaforico costituente su cui poggia la nostra percezione del mondo destra sinistra questo è un tema kantiano se volete c'è quel bellissimo saggio sulla divisione delle regioni dello spazio su cui Scaravelli scrisse un testo meraviglioso dicendo che appunto le due mani sinistra e destra incongruenti che costruiscono questa condizione a priori della sensibilità è innestata in un corpo vedete dunque non riusciremmo mai a vivere e pensare in assenza di tutto questo degli schemi senso motori profondamente riferiti al nostro specifico embodiment e alla nostra prassi pragmata vi dicevo prima le cose ci torneremo su questo tema che sfioro soltanto e che giustifica perché parlo di Malafuris cosicché l'antropomorfismo non devesse antropomorfism remain a part of our thinking not as a problem that we fail to overcome non potremmo superarlo non c'è niente da superare fa parte del nostro essere but l'antropomorfismo non l'antropocentrismo as a central characteristic of human projection and material engagement that demands attention and understanding dunque una filosofia come quella kantiana è bensì correlazionista e inoltre antropomorfa ineluttabilmente come sarebbe orsomorfa una filosofia degli orsi se la volessero e la potessero fare questo ci porta alla mia seconda premessa che è la seguente la filosofia critica si presta ad attivare vedete perché ho parlato di un archeologo cognitivo cioè una delle punte di diamante della ricerca antropologica insomma e anche neuro antropologica contemporanea la filosofia critica si presta ad attivare seconda premessa in modo motivato un dialogo non generico ecco non generico con alcuni direttrici di ricerca delle attuali scienze sperimentali per esempio appunto per esempio le neuroscienze la paleo antropologia l'archeologia cognitiva la psicologia sperimentale questa seconda premessa esplicita il modo in cui leggeremo insieme a voi leggerò insieme a voi la critica della facoltà di giudizio vale a dire come già anticipava Fiorenda Livigni l'opera con cui nel 1790 Kant porta a conclusione l'impresa critica l'esposizione sistematica dell'impresa critica ma al tempo stesso ne ripensa in modo innovativo alcuni presupposti tra cui lo stesso trascendentale lo stesso trascendentale che in quest'opera e lo vedremo viene definitivamente sottratto ad ogni comprensione innatistica noi c'è stata questa comprensione ancora in tempi recenti nasceremo con questi schemi già belli e fatti neanche per sogno modifica questa comprensione innatistica e la ripensa in modo intimamente temporale intima a me troveremo già oggi qualcosa che va in questo senso intimamente temporale epigenetico potremmo forse dire voi sapete che questa parola compare almeno una volta nelle tre critiche in un celebre paragrafo della ragion pura che non a caso è l'ultimo paragrafo della ragion pura perché Kant dice questo il 27 è l'ultimo paragrafo che mi sente perché d'ora in poi il mio discorso può andare avanti in modo molto più libero da una distinzione in paragrafo e lì si parla di questa epigenesi dei concetti puri dell'intelletto che cosa vuol dire Kant glielo dobbiamo tirare fuori perché non ce l'ha detto c'è un bellissimo libro di Caterine Malabu che è stata qui a discutere con noi l'anno scorso in cui questo tema è sviluppato in modo straordinariamente persuasivo Kant intende dire che si tratta di puri e semplici presupposti d'ordine criteri generalissimi d'ordine questi concetti puri dell'intelletto la cui vita determina il loro medesimo modo d'essere lo troveremo subito questo tema perché? perché guarda caso è questo il tema della critica della facoltà di giudizio meglio ancora il tema epistemologico della critica della facoltà di giudizio che non è soltanto un libro che si occupa di epistemologia come è ovvio e quindi ripeto vedremo questo tra pochissimo in un passo celebre del quarto paragrafo dell'introduzione che leggeremo insieme tutto questo comporta una certa torsione antropologica di cui mi prendo la responsabilità condividendola con voi e ne discutiamo se la cosa vi sembrerà impresentabile ma per leggere Kant per far funzionare Kant nella nostra situazione attuale io ho bisogno di questa torsione antropologica che consiglio e dalla quale mi riprometto di tirar fuori dei risultati che cercheremo di condividere insieme che vuol dire qui che la torsione antropologica ci consente di fare una lettura produttiva del testo Kantiano significa almeno tre cose che ora vi dico la prima è non tirarsi indietro e non lo farò dovunque il testo Kantiano consenta una riformulazione del suo testo per spicua nel vocabolario delle discipline che ho appena nominato per esempio il termine epigenesi è una cosa che canto una volta usa è una pax ma ci capiterà invece di autorizzarci ad usarlo anche in altri luoghi testuali in cui si vede che Kant vuol dire quello sta parlando di quello primo punto B non tirarsi indietro dovunque il testo kantiano mostri di poter cooperare Kant dal 1790 cooperare con problemi singoli definiti con i protocolli delle scienze sperimentali per esempio il linguaggio la questione che mi è capitato di sviluppare in questa sede questione terribile delle origini del linguaggio su cui oggi si lavora come voi sapete al contrario di cento anni fa quando era addirittura stata proibita oggi si lavora Kant ci aiuta in questo e che cosa lo schematismo di Kant la questione dello schematismo terzo punto questo è ancora il più come dire il più avanzato non tirarsi indietro per scrupolo filologico o che altro sia dovunque il testo kantiano si dimostri in grado di sollecitare le scienze sperimentali di oggi nell'individuazione di nuovi oggetti di indagine e nella messa a punto di domande più specifiche per esempio tradutte l'estetica come adesso andremo pian piano a interrogarla e a capire in ultima analisi che cos'è e di che cosa si tratta bene la nostra scaletta sarà la seguente oggi affronterò il problema epistemologico in modo un po' più testuale quindi avremo più slide scritte meno anzi più nessuna visiva a partire più nessuna con immagini a partire da questo momento non la stessa cosa da domani quando affronterò la questione dell'arte del genio o se volete dell'innovazione del tema dell'innovazione la terza sarà dedicata a quelle che ho chiamato qui e poi le chiarirò le prestazioni speciali dell'immaginazione perché sull'immaginazione nella terza critica Kant si scatena e la fa funzionare ben oltre quello che aveva usato fare nelle due critiche precedenti in particolare nella prima critica quarto quarto momento giovedì episodi salienti della Virkungsgeschichte della storia degli effetti di questa grande opera sceglierò pochi interlocutori che mi serviranno a portare avanti il tipo di approccio che faremo insieme ultimo passaggio l'attualità dell'estetica kantiana che è quella che di nuovo la professoressa Rivigni ha evocato quando vi ha promesso conoscendomi che avrei portato il discorso fino alle tecnologie contemporanee quindi parleremo di chatbot senza alcuna esitazione visto che quello di cui si parla adesso tutti i giorni è qualcosa dopo Kant ce l'abbiamo da dire su quello ma ci arriveremo venerdì dopo discussioni che avranno io spero anche aiutato a mettere appunto via via che il seminario va avanti il modo in cui lo dobbiamo condurre quindi intervenite chiedetemi anche di modificare di approfondire qualcosa che non vi sembra approfondire e così via bene cominciamo dal principio estetico vediamo se ce la faccio perché semmai lasciamo una piccola coda e la finiamo domanda dunque nella premessa ho parlato e anche adesso ultimissimamente di estetica kantiana estetica kantiana non significa niente estetica kantiana è una parola che va disambiguata come minimo perché tutti sapete che all'inizio della ragion pura compare anzi la prima parte della ragion pura compare una sezione molto importante intitolata estetica trascendentale allora preciso immediatamente che l'estetica presentata nella critica delle facoltà di giudizio è solo in piccola parte riconducibile a quella estetica trascendentale della prima critica è un'altra cosa è un'altra estetica che cosa sia l'estetica trascendentale lo sapete tutti perché sono conoscenze minimali che considero scontate per voi ma se non lo fossero chiedete l'estetica trascendentale è un esame delle forme a priori della sensibilità o dell'intuizione aestesis sensibilità in greco donde estetica che sono lo spazio e il tempo la questione estetica della critica della facoltà di giudizio è piuttosto diversa è piuttosto diversa perché Kant la mette in gioco per raggiungere e legittimare un vero e proprio principio estetico dell'esperienza quindi una cosa molto pesante dal punto di vista dell'apparato teorico della filosofia critica è un nuovo principio perché non c'è nella ragion pura che suppone nel momento in cui viene prodotta di aver esaurito i principi di cui abbiamo bisogno una ragion pura non c'è ed è un principio estetico un principio molto particolare c'è un passo in cui Kant lo definisce abweichend deviante anomalo perché non è un concetto ma è un sentimento un gefühl è un principio che è un gefühl questo principio è un sentimento dice Kant di piacere e dispiacere tutti questi punti li dovremo tutti esaminare anche perché nei primi 22 paragrafi parlerà solo del piacere e il dispiacere lo vedremo comparire soltanto dopo è un principio di piacere e dispiacere un sentimento di piacere e dispiacere che comporta anche su questo punto il mio maestro dichiaro i miei debiti subito perché il 90% di quello che ascolterete io l'ho appreso da Emilio Garroni con cui ho studiato e che è stato il mio maestro il 10% salendo sulle sue robuste spalle era un omone l'ho visto e lo metto insieme a voi ma senza quelle spalle non ce l'avrei e l'altro l'altro elemento il modo in cui Garroni mi amava riformulare questo sentimento di piacere è capacità di prendere le distanze e il famoso disinteresse così orrendamente frainteso da un'enorme genealogia della storia della filosofia vi leggerò poi non oggi né domani ma più avanti un passo di Heidegger che ci insomma fa venire la pelle d'oca su quanto si possa errare nell'interpretare i testi filosofici quindi la capacità di prendere le distanze dalla pressione del contingente questo aspetto che Kant qui chiamerà libero gioco ma ci arriveremo testualmente no? questo questo principio estetico che non è nella ragione pura non c'è benché sia un principio parimenti utile e necessario come quelli della ragione non meno di quelli della ragione pura per spiegare la nostra conoscenza non per spiegare il modo in cui proviamo piacere o guarda caso se ci piacciono le opere d'arte se ci piacciono le opere d'arte ma il modo in cui conosciamo il modo il nostro modo di fare conoscenza quindi un problema che è presente di fatto nella ragione pura non poteva non essere presente di fatto ma che Kant nella ragione pura non e ora vedremo qual è questo problema ma che nella ragione pura Kant non tratta criticamente lo assume c'è questo problema è una cosa che facciamo e beh il filosofo critico vuole capire a che condizioni e se c'è un principio che me lo spiega questo problema come vi dicevo prima occupa l'intera parte prima parte della critica della facoltà di giudizio userò questo titolo che è il titolo dell'edizione Garroni Garroni o Henegger e in Audi 99 anche servendomi quella di altre edizioni sapete che ce ne sono molte Amoroso ad esempio o la primissima quella con cui la mia generazione ha studiato che è quella di Gargiulo e in un caso almeno direi che la traduzione di Gargiulo mi piace di più e ve lo dirò tra non molto quindi è un problema che viene espresso con grande chiarezza all'inizio del paragrafo quarto dell'introduzione definitiva che ora leggiamo dell'introduzione definitiva al testo Kant ne scrisse due non mi posso soffermare su questo ma se siete interessati lo facciamo nella discussione perché ce n'è da dire su queste due diverse introduzioni una la lasciò completamente è stata poi ritrovata molti decenni dopo e mentre adesso usiamo quella definitiva molto più concisa quindi nel paragrafo quarto di questa introduzione laddove Kant introduce la distinzione tra giudizio determinante e giudizio riflettente di cui ora ci occuperemo e poi nei paragrafi cinque e sei della stessa introduzione lo articola facendo emergere l'ambito della soluzione critica di quel problema e la soluzione stessa compare nel paragrafo settimo della introduzione ora facciamo insieme rapidamente questo percorso all'inizio del paragrafo quarto Kant distingue tra due modalità del giudizio determinante e riflettente due modalità della facoltà di giudicare per cui se l'universale è già dato dice Kant l'universale trascendentale dunque a priori per esempio la categoria della causalità pensiamo prevalentemente alla categoria della causalità che è la regina delle categorie della scienza o della scienza come la concepisce Kant ma ancora noi fondamentalmente se è dato già l'universale il giudizio sarà determinante poco avanti Kant fa questo esempio questa modificazione che io vedo ha una causa questo è un giudizio determinante questa modificazione ha una causa quando invece è dato solo il particolare dice Kant e l'universale deve essere trovato costruito ipotizzato inferito sono tutti equivalenti ipotizzato inferito trovato ci troviamo di fronte al giudizio riflettente rimanendo nella stesso ambito della causalità e qui prendo un esempio che sta nella ragione pura ma è più utile di altri qual è la causa specifica per cui il calore del sole ammorbidisce la cera e indurisce l'argilla cioè la stessa causa e modo d'essere causa in infinità di modi diversi e questo io voglio conoscere o meglio ancora siccome noi umani ci appassioniamo a questo tipo di conoscenza ci interessa criticamente sapere com'è che le facciamo come le costruiamo e come mai anche abbiano tendenzialmente successo queste conoscenze questo è il problema della terza critica dove nei due nei due pezzi che vi ho letto quando l'universale l'universale deve essere trovato quando è dato quando deve essere trovato la parola universale indica due cose molto diverse nel primo caso un universale a priori assolutamente necessario ma vi ho anche prima invitati a pensare questo a priori non come una cosa innata conficcata nel nostro cervello ma come un presupposto d'ordine che vive delle sue trasformazioni vive della sua epigenesi nelle diverse diramazioni in cui si muoverà nel primo caso si tratta di quel presupposto nel secondo si tratta di un universale empirico empirico d'accordo per esempio e tornerò su questi esempi che ovviamente è conveniente prendere dalla scienza in senso stretto le orbite dei pianeti sono ellittiche questo è un universale una regola una legge ottenuta a un certo punto da un signore che si chiama che plero sulla base di osservazioni divergenti che lo portano a questo tipo di ipotesi di inferenza funzionante come viene costruita qualcosa del genere in base a quale presupposto in base a quale presupposto quindi un universale empirico quello esemplarmente definito dalla conoscenza della natura in senso rigoroso che ha in mente Kant naturalmente in quel momento il risultato di ipotesi e di accertamenti ma come mi viene in mente di fare ipotesi e accertamenti questo interessa il filosofo critico e correlazionista dunque anticipiamola in questo modo questo tipo di ricerca di universali empirici riferito da Kant all'attività riflettente di giudizio quando la regola deve essere trovata definisce la questione epistemologica che fa da sfondo che fa da problema che fa problema nella critica della facoltà di giudizio questa ricerca di leggi empiriche è un dato di fatto come dicevo prima già in ragion pura noi la facciamo dice come la facciamo Kant risponde ma abbiamo una certa capacità di farlo che non è una risposta mutterwitz un'abilità innata non è una buona risposta no il filosofo critico vuole arrivare ad una risposta critica è un dato di fatto del nostro caratteristico modo di conoscere non del modo di conoscere del porcellino di terra o del orso evocato prima è un dato di fatto cioè che l'attività legislativa spontanea dell'intelletto umano non sia altro che una sequenza di specificazioni e di applicazioni particolari per questo il tempo è così importante ma che condizioni noi la intraprendiamo questa ricerca perché ci metteremmo a ricercare leggiamo adesso il modo in cui Kant presenta questo problema critico che non è in ragion pura anche se il problema c'è ma non è presentato criticamente ecco cosa dice Kant qui ogni tanto mi fa un po' di problemi a rispettare il mio com'è introduzione paragrafo quarto normalmente lo facevo allora questa abbiamo già visto la facoltà di determinante giudizio sotto leggi trascendentali universali date dall'intelletto e solo sussumente la legge le prescritte a priori essa non ha bisogno di pensare per se stessa una legge per poter subordinare all'universale il particolare della natura ogni mutamento ha indubbiamente una causa non devo pensare a nient'altro che alla categoria al concetto puro di causalità che già funziona in questo frame di cui vi ho però invitato a cogliere anche gli elementi di flessibilità che il mutamento che io vedo per esempio il sole ha indurito l'argilla io lo percepisca in termini di causalità è la condizione stessa per la quale io lo incontro appunto come un mutamento e non come un evento puntiforme forse ripetibile e forse no d'accordo? è già molto allora dal punto di vista di quest'ordine che il nostro modo di esperire di conoscere di sopravvivere ci porta a performare che il mutamento lo percepisco in termini di causalità è la condizione stessa per cui lo incontro come mutamento e non come una cosa rapsodica che una volta scena una volta non più come caos d'accordo? e questo è qualche cosa che nella ragione pura Kant fa risalire allo schematismo oggettivo dell'intelletto non posso entrare in questa discussione se volete centriamo la discussione in cui potremmo entrare è accennata dalla parentesi Kant lì lo chiama schematismo dell'intelletto ma è l'immaginazione che glielo fa l'intelletto arriva a cose fatte e unifica e l'immaginazione che deve fare un enorme lavoro che Kant in ragion pura descrive anche in modo molto efficace molto efficace deve preparare il materiale sensibile affinché l'intelletto possa operare la sua sintesi spontanea e quindi l'immaginazione fa un sacco di lavoro l'immaginazione un po' sacrificata se conoscete la storia della ragion pura che Kant riscrive in due volte in alcuni passaggi determinanti perché si era reso conto che si era sbilanciato troppo nei confronti dell'immaginazione ve lo dico in modo molto semplificato non è questo il nostro ordine di problemi ma se volete nella discussione ci possiamo tornare dunque questo schematismo oggettivo è qualche cosa che l'immaginazione grazie al quale l'immaginazione garantisce l'applicabilità di quei presupposti d'ordine che l'intelletto produce spontaneamente al materiale sensibile ma lo lascia a quel livello di generalità oggettiva bensì ma molto generale ogni mutamento ha una causa va bene è qualcosa che riguarda lo schema ed ecco il passaggio che ci interessa su cui nasce viene enunciato il problema epistemologico della critica della facoltà di giudizio e questo è uno di quei passi in tedesco che non mi ricordo più qual era quel lettore di Kant che diceva che doveva usare tutte e cinque le dita delle mani per le subordinate perché se no alla fine non riusciva più a capire cosa diavolo avesse detto è come se siete lettori di Kant sapete che Kant abbonda in questo e questo ne è uno solo che ci sono così molteplici forme della natura vedete che la molteplicità è il tema della critica della facoltà di giudizio non mi basta dire questo mutamento ha una causa ma sì ma che causa è ci sono così molteplici forme nella natura per così dire Gleisam tornerò su questo Gleisam che Gargiulo traduce diversamente traduce traduce del pari facendo lavorare il Gleisch e del pari lo mette in parallelo ha ragione lui vanno messi in parallelo ci torno perché questo tema è molto forte solo che ci sono così molteplici forme della natura per così Gleisam così tante modificazioni dei concetti trascendentali universali della natura le quali sono lasciate indeterminate da quelle leggi che l'intelletto puro dà a priori primo dito poiché tali leggi riguardano solo la possibilità di una natura quale oggetto dei sensi in genere secondo dito che perciò debbono esserci anche leggi che in quanto empiriche possono sì essere considerate contingenti secondo il modo di intendere del nostro intelletto che concepisce solo l'assolutamente necessario ma che però se le si debbono chiamare leggi come pure è richiesto dal concetto di una natura debbono essere considerate necessarie a partire da un principio sebbene a noi sconosciuto dell'unità del molteplice è terrificante questo questo se lo leggete in tedesco non riuscite a star lì dietro il che vuol dire che la traduzione che lo rispetta perfettamente è eccellente ecco allora il modo il modo radicalmente correlazionista con cui Kant si è mosso parto da qua Kant poteva limitarsi pensateci un attimo poteva limitarsi a dire ci sono così molteplici forme nella natura che sotto gli occhi di tutti che ci debbono essere anche leggi che ci rendono conto di questa molteplicità perché ha messo Gleisam e ci ha piazzato pure le modificazioni dei concetti ipercorrelazionista per certi aspetti il problema sarebbe stato enunciato in modo anche più chiaro ma Kant invece ha correlato guardate questo punto qui è per me della più grande importanza Kant ci dice l'enorme modernità semmai questa parola ha senso per un autore di 200 anni fa l'enorme modernità di Kant dal punto di vista del rigore epistemologico Kant ha correlato alla molteplicità delle forme della natura a un apparato cognitivo che le incontra proprio secondo il profilo di quella differenziatezza siamo noi che incontriamo così il mondo eh vi vedo perplessi pensate che anche l'orso assassino di tutti parliamo l'orsa incontra il mondo nello stesso modo no incontra un mondo orsesco come diceva Wittgerstein eh semmai potesse parlare il leone userebbe un linguaggio leonino e parlerebbe di un mondo leonino che sarà altrettanto complicato del nostro ma il nostro è fatto così noi cerchiamo questa roba qua e questo implica che c'è ma ci arriveremo co-evoluzione tra le strutture cognitive che noi adoperiamo e il mondo dentro cui abitiamo è per questo che il mondo umano è diventato un mondo storico e così via e così via Kant dice appunto che le cose stanno così la molteplicità delle forme va accolta in parallelo ecco perché il vecchio gargiulo forse ha tradotto meglio Gleisam del pari e del pari sono tante le modificazioni con la plasticità del nostro riceverle ed elaborarle in vista di un ordinamento cognitivo le due cose procedono insieme ecco perché il correlazionismo è per me una pregiudiziale epistemologica irrinunciabile d'accordo e tutto il resto è metafisica metafisica bella e buona la molteplicità delle forme va accolta dunque in in questo in questo in questa relazione c'è complementarità c'è complementarità c'è complementarità tra la prestazione plastica della mente umana ma qui come vedremo meglio questa mente questa che ho chiamato mente Kant la tematizzerà in tutta la critica essenzialmente come immaginazione Ein Bildungskraft c'è complementarità tra l'immaginazione e il modo in cui la mente umana interagisce con i dati reali con il molteplice sensibile e se ne fa degli schemi siamo noi animali umani a ritrovarci in un ambiente così caratteristicamente differenziato così caratteristicamente differenziato così ricco di molteplicità un ambiente differenziato che tuttavia non è un caos non è un caos e perché non è un caos perché noi non facciamo altro che organizzarlo in modo tendenzialmente sistematico su questo tendenzialmente tornerò proprio alla fine del seminario di oggi con un bellissimo passaggio del sesto capitolo del sesto paragrafo dell'introduzione perché noi non facciamo altro che organizzarlo in modo tendenzialmente sistematico cioè procedendo a sussumere sotto leggi empiriche più generali canta in mente Newton in questo momento la più generale di tutte quella che ne sussume sotto tutte le altre un ambiente scusate non facciamo altro che sussumere sotto leggi empiriche più generali singole leggi empiriche particolari fino a quel momento irrelate puntiformi ma che soltanto da quel momento in poi entrano a far parte della costruzione di un sistema coerente fin dove è possibile che fa da pandan con il tendenzialmente di prima fin dove è possibile canta ben chiaro questo fin dove è possibile un sistema coerente delle leggi della natura fino a unificarle se ci riusciamo lo stiamo facendo ancora oggi ma certamente ma certamente nessuno si è accontentato della incompatibilità tra paradigmi descrittivi di fenomeni fisici apparentemente non conciliabili struttura corpuscolare ondulatoria è quel che volete lo scienziato continua a lavorare con la forte persuasione che questa unificazione prima o poi si ottiene e canta le idee molto chiare su questo poi ci arriveremo alla fine bene allora un sistema coerente ma se facciamo questo che è il dato di fatto meramente registrato nella ragione pura che ne facciamo dei concetti puri li applichiamo e come li appliciamo e ce la facciamo c'è una regge canta da due risposte perché abbiamo un talento un mutter witz per applicarle ce sappiamo fa e l'altra è perché ci sono dei criteri regolativi forniti dalla ragione che però non gli è piaciuta come spiegazione perché gli sembrava un po' appiccicata qui stiamo dicendo se mi sono fatto capire che stiamo cercando un altro principio per questo tipo di evento applicativo o modificativo che tematizza il differenziato ciò che nella natura vi è di diverso e non c'è ciò che vi è di uguale ma se facciamo questo cioè se siamo tecnici e scienziati a diversi livelli di competenza allora significa che noi disponiamo di un qualche principio e dunque la facoltà riflettente di giudizio che ha il compito di risalire da ciò che è particolare nella natura all'universale universale empirico naturalmente ha quindi bisogno di un principio che non può trarre dall'esperienza non è un principio empirico perché esso deve appunto fondare l'unità di tutti i principi empirici sotto principi ugualmente empirici ma superiori e quindi la possibilità di una subordinazione sistematica tra di essi non lo può trarre dall'esperienza perché se sto facendo esperienza e se esperienza non significa collezione di giudizi percettivi questo è caldo questo è freddo ma costruzioni di schemi e di mappature allora il principio lo sto già usando se sto facendo già esperienza il principio è già attivo d'accordo? siete persuasi? funziona? qual è l'immagine che lui sta immagine all'epoca potentissima oggi rimessa in discussione è una struttura arboriforme rami più piccoli che danno rami più grandi fino se possibile alla legge che spiega tutto e in quel momento principi newtoniani spiegavano un numero enorme di fenomeni d'accordo? un tale principio trascendentale e questo punto dobbiamo seguire bene un tale principio trascendentale la facoltà riflettente di giudizio può quindi darlo come legge solo a se stessa non lo può ricavare empiricamente lo può dare solo a se stessa e è autonomo dirà Canti in un altro passaggio non ricavarlo d'altrove che altrimenti sarebbe facoltà determinante di giudizio ma entreremmo in un tipico cerchio vizioso o regresso all'infinito perché dovrebbe essere un principio che vi dice quando posso applicare il principio precedente né state attenti che questo è un passaggio complicato né lo può prescrivere alla natura cioè può dire la natura si conforma a questo principio questo è un tema formidabile di tutta la critica e a maggior ragione della seconda parte la critica della facoltà teleologica del giudizio quella relativa agli organismi agli esseri organizzati state attenti un tale principio trascendentale la facoltà riflettente di giudizio può quindi darlo come legge solo a se stessa è un principio del giudizio genitivo oggettivo non ricavarlo d'altrove che altrimenti sarebbe facoltà determinante né può prescriverlo alla natura poiché questa la natura non si regola sulle condizioni secondo le quali cerchiamo di ottenerne un concetto che è del tutto contingente rispetto ad essa oscura ora ve la spiego qual è questo concetto questo concetto è semplicemente che anche nelle sue leggi empiriche infinitamente differenziate l'ha detto prima ci sia un ordine questo noi lo possiamo dare al giudizio questo input affinché il giudizio vada a cercare l'ordine ma mai potremmo darlo a natura dicendo la natura è stata costruita da un demiurgo geniale come un organismo o come un'opera della tecnica questo è un presupposto come dire a Kant soggettivo badate soggettivo in tutta quest'opera ve lo dice chi ha fatto ventimila esami su questo testo soggettivo significa non oggettivo non che vale per me ma non vale per te ma non vale per lui significa no quando Kant vuol dire un giudizio soggettivo nel senso che vale per me ma non vale per la signora qui davanti usa la parola privat urteil non subjective qual è dunque questo questa regola questo concetto che è del tutto contingente che noi non possiamo non presupposarlo se soltanto ci mettiamo alla ricerca ma che non possiamo attribuire vedete il rigore metodologico di Kant non possiamo attribuire faremmo metafisica la natura è teleologica ci sono scopi di natura balle di raccante nella seconda parte scopo di natura è qualcosa che serve al giudizio per operare su quegli enti particolari che sono gli enti auto-organizzati ma rientra comunque nella condizionamento di un principio solamente soggettivo un principio per il giudizio per il giudizio non può prescriverlo perché appunto un concetto che è del tutto cioè come dicevo prima e tenete una mente che anche nella grande eterogeneità delle leggi empiriche ci sia un ordine e che l'ordine sia quello che ha in mente Kant un ordine verticale non orizzontale questo è un tema che potrebbe essere toccato ma insomma forse esula un po' la mappatura dell'esperienza organicamente connessa in Kant la modernità su questo ha dato molti strattoni ma Kant la pensa in questo modo dunque un principio che non è empirico non lo ricaviamo dall'esperienza perché se è vero che facciamo esperienza ciò significa che già sta funzionando che non è nemmeno oggettivo perché lo possiamo riferire soltanto al giudizio l'autentico oggetto critico della critica della facoltà di giudizio è questo principio del giudizio riflettente Kant l'ha definito fin qui in modo come avete visto prevalentemente negativo non è oggettivo non è empirico non è intellettuale naturalmente che se fosse intellettuale sarebbe giudizio determinante ce l'avrei già come ce li hanno gli organismi automatici che hanno principi d'ordine di carattere totalmente computazionale uno dei grandi problemi che sta sorgendo oggi apro una parentesi quadrata è che se queste chat GPT sono in grado come qualcuno sostiene qualcuno che non è uno stupido di darsi da sole degli obiettivi teleologici indipendenti e di lunga durata per esempio prevenire l'obsolescenza questo significa che queste che queste macchine stanno cominciando a somigliare al nostro modo di produrre enunciati cognitivi nel senso dell'inferenza della creatività eccetera se per contro siamo ancora ma questo oggi nessuno lo sa ragazzi mi farebbe molto piacere forse l'ultimo giorno attivare qualcuno di voi magari sta anche studiando questi temi non siamo affatto certi che le prestazioni strabilianti che abbiamo visto negli ultimi tre mesi quindi recentissimamente siano qualche cosa che è già andato al di là dell'elemento puramente computazionale cioè se l'intelligenza artificiale continua a lavorare solo computazionalmente oppure cioè con il calcolo e con la potenza inaudita del calcolo oppure se non siano entrati non introdotti ma autoprodotti elementi di teleologia che significa voglio vivere un po' di più cioè inevitabile che qui sconfini immediatamente nella fantascienza e quindi bisogna stare molto cauti non è oggettivo appunto inferenziale è qualche cosa di ipotetico sono ipotesi qualche riga dopo Kant infine introduce il termine che ci serve che è questa famosa a tutti voi nota locuzione als ob come se l'analogia e questa è una grande riflessione epistemologica sull'analogia in quanto ha una radice estetica Kant dice che questo principio che sicuramente stiamo adoperando se è vero che nella molteplicità delle forme naturali cerchiamo un ordine tendenzialmente lo troviamo lo stiamo utilizzando come se facendo questa simulazione produciamo nel nostro cervello se vi piace questo frame cerebrocentrico una mappa di carattere analogico facciamo questo vediamo se funziona no? una mappa molto ricca di componenti pensate quando il linguaggio è entrato dentro questa mappa cosa diavolo è successo perché per molti molte centinaia di migliaia di anni il linguaggio non c'era ancora entrato nel momento in cui c'è entrato il linguaggio provate a pensare questa mappa che cosa è diventata alla fine toccheremo questo tema che come vedete è già incombente qui se no non lo avrei non avendolo scritto nei miei appunti non lo avrei evocato allora come se la natura si conformasse al nostro bisogno di riconoscervi un ordine come se questa è la definizione kantiana non so quanto felice ma la dobbiamo adottare anche noi come se si potesse parlare di una zweck messischkeit der natur di una conformità a scopi della natura ma puramente ipotetica analogica soggettiva d'accordo uno scopo oggettivo della natura o è roba teologica o è una cosa irricevibile come canta non si stanca di dire nella seconda parte di quest'opera che è una parte altrettanto importante molto più breve della critica del giudizio estetico che invece la radice trascendentale dell'intera opera e in cui Kant ribadisce questo stesso concetto in forme diverse in modo davvero ossessivo ci torneremo a suo tempo allora ma c'è ancora un po' di tempo sì sì cerco di finire zweckmessigkeit conformità a scopi della natura conformità a scopi della natura la conformità a scopi è qualcosa che riguarda la ragione essenzialmente la zweck la messigkeit riguarda le leggi dell'interletto la legislazione gesetz messigkeit Kant ha preso queste due parole le ha tagliate e ne ha fatta una nuova zweckmessigkeit conformità a scopi della natura in senso soggettivo e in quanto io faccio questa simulazione nel senso proprio della simulazione che si fa con i computer o con i cervelli che mi metto a ricercare le le regolarità senza sapere se le troverò peraltro ma quasi sempre le troviamo leggiamo un altro passo importante no non ancora questo infatti si può pur pensare che malgrado tutta l'uniformità delle cose della natura secondo leggi universali senza di cui non si darebbe affatto la forma di una conoscenza d'esperienza in genere la specifica diversità delle leggi empiriche della natura insieme ai loro effetti potrebbe essere non di meno talmente grande da rendere impossibile al nostro intelletto di scoprirvi un ordine afferrabile Kant l'ha già detto e lo ribadisce qua potrebbero essere leggi veramente irrelabili ciascuna di esse dotata di certe caratteristiche e conformità a regole ma irrelabile se è invece un sistema deve poter essere collegato la facoltà riflettente di giudizio ha dunque in sé anch'essa un principio a priori per la possibilità della natura ma solo sotto il riguardo soggettivo mi raccomando a comprendere bene questo soggettivo che significa non oggettivo che lo posso predicare per il modo di operare del giudizio e non per il suo oggetto epistemico mediante il quale essa prescrive non però alla natura in quanto autonomia ma a se stessa alla facoltà di giudizio in quanto è autonomia cioè capace di autolegiferare una legge per la riflessione sulla natura ora se noi ci sforziamo lavoriamo su questo soggettivo quanto è importante l'elemento soggettivo Kant si chiede a questo punto che cosa c'è nell'essere umano di radicalmente soggettivo cioè che cosa c'è nella sua costituzione d'essere complessiva che non potrebbe in nessun caso mai essere utilizzato in vista di una conoscenza oggettiva che cosa c'è di soggettivo perché lì che va cercato naturalmente un principio la cui natura è analogica simulativa d'accordo che cosa c'è e questo elemento radicalmente specificamente insuperabilmente soggettivo lo chiama è un elemento estetico ha a che fare con una aestesis con un sentimento tornerò su questo punto anche terminologicamente tra un minuto e Kant lo presenta come un Lebensgefühl sentimento vitale Lebensgefühl come un sentimento di piacere e dispiacere ma in tutta l'analitica del giudizio di gusto di cui ci stiamo occupando adesso parlerà solo del piacere pur cause pur cause ma il dispiacere lo dovremmo andare a ritrovare più avanti Kant lo dice appunto nel nel paragrafo settimo che prima era comparso perché mi dà le precedenti si comporta in modo strano eccola ciò che è esclusivamente soggettivo in una rappresentazione ciò che in nessun caso potrebbe essere utilizzato ai fini della conoscenza qualcosa che anzi precede la possibilità della conoscenza di un oggetto in quanto è immediatamente legata con la sua semplice apprezzione è un sentimento di piacere e dispiacere nel quale in cui il soggetto sente se stesso secondo il modo in cui è affetto dalla rappresentazione di un oggetto Kant si chiede a questo punto del paragrafo esiste un tipo di giudizio il cui unico questa è una parola molto forte su cui Garroni che ricordavo prima ha scritto pagine importantissime il cui unico fondamento di determinazione la cui unica motivazione necessaria e sufficiente il cui unico Bestimmungsgrund sia il sentimento di piacere e dispiacere la risposta è positiva ciò accade nel puro giudizio di gusto ciò accade nel puro giudizio di gusto quel giudizio in cui quel giudizio in cui diciamo di qualcosa che è bello di un oggetto che mi si è fatto incontro di una rappresentazione da cui sono stato affetto vediamo se qui avevo segnato qualche altra cosa da dirvi prima di passare e concludere in tempo con queste ultime considerazioni quello che nasce questo giudizio il cui unico Bestimmungsgrund è un sentimento di piacere lasciamo perdere il dispiacere per un momento e quando un oggetto mi si fa incontro è in modo tale che le mie due facoltà conoscitive di raccanta sono attivate in un libero gioco conoscete tutti questa questa definizione in un libero gioco che suscite in me un sentimento di ravvivamento e il giudizio nel quale di un oggetto che ho incontrato io ho potuto dire che è bello dire di un oggetto che è bello significa che il giudizio estetico pure il giudizio di gusto è il prototipo del giudizio riflettente il prototipo del giudizio riflettente la condizione vitale al tempo stesso distanziata è aperta aperta verso qualcosa che mi si fa incontro ma distanziata perché lo so tenere a distanza e lascio giocare le due facoltà questo è il fondamento del giudizio puro di gusto ed è l'elemento che esemplifica mostra il principio estetico della facoltà di giudizio che Kant sta cercando l'analitica del bello preciserà questa situazione secondo queste tre modalità che vedete nella slide che questo sentire non è solo un sentire ma è anche riflessivamente un sentir sì ed è anche un con sentire un sentire insieme a qualcuno cioè ha costitutivamente qualcosa di riflessivo e di comunitario secondo punto che l'attività implementata da questo tipo di giudizio riflettente definisce un libero schematismo libero gioco delle facoltà di giudizio estetico cioè come viene infine chiarito nel paragrafo 21 che costituisce la prima conclusione di questo primo movimento all'interno del principio estetico della facoltà di giudizio una libera istruttoria preliminare in cui il gioco tra immaginazione e intelletto può assumere il virgolettato di Kant diverse proporzioni in rapporto alle sue caratteristiche finalità cognitive quali sono le caratteristiche finalità cognitive di conoscere il differenziato di conoscere ciò che vi è diverso la molteplicità per questo si parla di diverse proporzioni questo ce lo possiamo perfino Kant non lo dice ma vi autorizzo a farlo fenomenologizzare nella nostra testa vediamo qualcosa che non sappiamo bene che cos'è e facciamo una serie di frame possibili per collegarlo con delle proprietà in un libro assai interessante a cominciare dal titolo che Umberto Eco scrisse nel 97 intitolato Kant e l'ornitorinco immagina che i primi coloni che videro coloni che si trovavano in Nuova Zelanda proprio ai tempi guarda caso in cui Kant scriveva la critica alla facoltà di giudizio videro questo animale stranissimo e cominciavano a fare un libero gioco dell'immaginazione dell'intelletto per capire a quale categoria a quale specie a quale classe lo dovessero annettere a quale no e così via e lo chiamarono la finornitorinco questo è qualche cosa che Kant questo frame questa sceneggiatura è qualche cosa che ci consente di assumere anche noi una libera istruttoria preliminare in cui il gioco tra immaginazione e intelletto può assumere diverse proporzioni in rapporto alla diversità degli oggetti dice Kant anche se la proporzione ottimale cioè quella che funge da condizione estetica di tutte le altre proporzioni è proprio e solo il libero gioco quando l'immaginazione schematizza senza concetto dice Kant nella ragione pura schematizzata senza concetto sarebbe una contraddizione un ossimoro anche se in vista di concetti possibili con questo paragrafo 21 si chiude questo complesso argomento e si presenta il paragrafo stesso come la conclusione provvisoria del problema epistemologico che viene raccolto sotto il titolo di definitivo di gemeinz il sentimento come lo chiamiamo questo gefühl questo gefühl che fin qui ci ha portati a identificare nel puro giudizio di gusto la condizione che è preliminare ad ogni conoscenza d'esperienza se noi intendiamo la conoscenza come una conoscenza volta al determinato e al differenziato lo possiamo denominare un gemeinz un senso che abbiamo tutti in comune ma anche di racconto un po' più avanti ma lo possiamo dire subito un senso della comunità cioè nel consentire che ho usato prima è presente la comunità dei giudicanti che è un elemento di questa attività cognitiva anche questo lo sviluppo che è possibile fare in termini di archeologia cognitiva e di paleoantropologia è formidabile le ultime negli ultimi vent'anni l'aspetto cooperativo del genere Homo e in particolare della specie Homo sapiens sta diventando a poco a poco il primo contrassegno della differenza di questi animali esperienti rispetto agli altri l'essere umano coopera senza difficoltà non solo con i suoi consigli ma anche con quelli di altre tribù e così via questo elemento forse qualcuno di voi ha questo modo in cui ne ho parlato ha evocato gli esistenziali della analitica dell'esserci di Heidegger la befindlichkeit il ritrovarsi il Verstein l'essere il mitzain stiamo proprio lì stiamo proprio lì cioè c'è modo di pensare che Heidegger che è stato uno dei più grandi lettori di Kant che ha scritto il libro forse più importante sulla critica della ragion pura abbia riorganizzato il trascendentale kantiano nel modo che si trova nella prima parte di essere tempo salvo poi andare per altri lì di rincontreremo ancora Heidegger perché è indispensabile dunque io a questo punto ho due opzioni vi ho preparato due cartelle e mezzo di riformulazione in linguaggio quotidiano di questa roba che ho detto vi ho detto oggi vi ho stancato un po' con le diapositive da domani andiamo molto più veloci che posso fare adesso o se invece abbiamo un quarto d'ora ancora se invece volete fare delle domande voi io lo faccio domani e comincio domani da questo come volete voi io farei questa volete risentire a meno che non ci siano delle domande urgenti che proprio non vi potete trattenere io sentirei questa invece questa mi piace molto quest'idea di questa di questa traduzione in modo da dare a tutti voi la possibilità di riflettere e poi domani possiamo decidere addirittura di aprire con le domande magari ci prendiamo una mezz'ora domani possiamo aprire con le domande con le domande e poi andiamo avanti con l'esposizione quindi prego allora prova a riformulare come mi ero promesso di fare sapendo di poter avere un pochino più di tempo oggi pomeriggio però facciamo lo stesso allora Kant si è chiesto se a monte di ogni possibile prestazione cognitiva prestazione cognitiva nel senso della conoscenza d'esperienza conoscenza di questo e di quello e della loro differenza e della possibilità di correlare le differenze senza accontentarsi di lasciarla una qua una là che sono buoni tutti si dice a Roma ma di metterle insieme Kant si è chiesto se a monte non si debba riconoscere nell'aistesis umana cioè in qualche cosa di strettamente non cognitivo una qualità originaria che orienta la cognizione umana verso la sua peculiare plasticità plasticità è una parola mia non è una parola di Kant ma è quella che in questo momento funge perfettamente da sintesi delle cose che ho detto fin qua allora dice Kant non ci si dovrà riferire alla sensazione materiale quella che in tedesco si chiama empfindung perché è troppo affetta dalla materialità non ci si potrà riferire alla percezione più o meno cosciente perché è troppo affetta da concettualità la wahrnemung in tedesco dobbiamo limitarci al gefühl al sentimento sentimento di piacere e di spiacere qualche cosa grazie a cui il soggetto si sente una propria eccezione e sente il mondo ambiente in cui si trova un sentire indeterminato indeterminato ma anche intimamente composito perché dentro ci sono un elemento un elemento riflessivo è un elemento comunitario un'apertura vedete questa citazione adesso ne ho chiarito la matrice ideggeriana la riconosco è una è una apertità che però al tempo stesso ha una capacità di tenere a distanza di non essere sopraffatto dall'obbligo contingente come dire apertura e anche anche mantenere a distanza distanziamento nei confronti del mondo dove con l'espressione mondo dobbiamo intendere il mondo materiale il mondo fisico ma anche contestualmente il mondo in quanto abitato da altri umani con i quali si coopera e si interagisce cosicché questo sentire questa estesis originaria oltre a essere un sentire noi stessi e il mondo è qualche cosa come un sentire insieme un senso o sentimento comune ovvero addirittura un sentimento della comunità nel paragrafo 40 su cui Ann Arendt ha fatto un grande lavoro per chi è interessato Kant sviluppa in particolare questo aspetto del Gemeinsinn come Gemeinschaftliche Sinn un sentimento della comunità Kant lo ha definito in prima battuta come un sentimento di piacere e dispiacere un senso di ravvivamento e di espansione della vita e insieme come qualcosa che gli oppone resistenza e lo perturba fin qui non abbiamo trovato niente di questo perturbamento ma domani cominciamo a trovarlo perturbamento che diciamo in anticipo per la modernità è diventato più importante della armonia fin qui Kant lo ha appunto definito così si è soffermato solo su questo primo aspetto Kant si è chiesto vi ricordate esiste una situazione in cui prescindendo da qualsiasi intento conoscitivo e perfino da qualsiasi finalità di carattere strumentale intenzionalità di possesso di desiderio il soggetto si ritrova in una condizione emotiva definita unicamente da questa aestesis originaria la risposta è sì e qual è il contrassegno? il contrassegno è la bellezza e quando di fronte ad una rappresentazione il soggetto dice quanto è bello Kant dirà non in sede di introduzione ma nel primo paragrafo dell'analitica del giudizio di gusto molto importante che questo oggetto può essere un oggetto naturale il tramonto la rosa famosa ma anche un oggetto artificiale un edificio anche artificiale quindi costruito quindi il soggetto si trova in una condizione emotiva definita da questa comparsa di un oggetto che del tutto liberamente senza alcuna ricerca intenzionale ci si è presentato davanti agli occhi e ha messo in libero movimento immaginazione ed intelletto accordando l'una con l'altra senza alcuno scopo determinato alla famosa disinteresse così orrendamente frainteso della storia della filosofia e ha detto o non lo ha detto è bello questa è la sanzione e questa è la situazione emotiva che definisce il giudizio estetico allo stato puro un giudizio che la cui unica motivazione il cui unico bestimung scrunt è un sentimento di piacere un sentirsi in accordo con qualcosa che ci è venuto incontro domanda come ci si sente in questa situazione emotiva la risposta è ci si sente bene e perché ci si sente bene ci si sente bene perché le cose quelle naturali ma anche quelle artificiali danno talvolta segno di venirci incontro con favore come se vedete l'analogia la simulazione come se ci volessero si lasciassero accordare con il nostro bisogno di percepire il mondo come un ambiente adatto a noi ci infilo una componente paleoantropolitana che non è kantiana kant ha scritto una fondamentale antropologia che toccherò nell'ultima giornata di questo seminario come se fosse stato progettato per noi ma deve essere soggettivo altrimenti sarebbe teologico una metafisica teologica un mondo che si accorda con le nostre facoltà conoscitive e con la nostra capacità di farne un'esperienza differenziata in questo diversa da esperienze che fanno altri viventi ma anche perché contestualmente noi avvertiamo che ciascun altro si deve poter sentire in quelle stesse condizioni qualora gli capita la stessa la stessa cosa perché fa parte del piacere che io provo sapere che c'è qualcun altro che sicuramente lo proverà da ultimo nel paragrafo 21 Kant ha raccolto nel concetto di gemeinzin questa situazione emotiva al tempo stesso originaria quindi semplice e complessa perché e molte cose insieme rimarcando ne tematicamente l'aspetto epistemologico è solo in virtù di questo principio che il giudizio riflettente si mette si autorizza da solo a fare delle ipotesi a produrre delle congetture a proporre delle inferenze delle abduzioni come diceva quel grande Kantiano che fu Peirce altrimenti non lo faremmo naturalmente non dovete pensare che il ricercatore primitivo che noi qui stiamo fantasticando producesse nel suo pensiero nel suo linguaggio interno magari ancora non ce l'aveva un enunciato di questo genere questo enunciato è qualche cosa che il pensiero critico deve presupporre come la condizione per cui noi ci mettiamo a ricercare con la fiducia che qualcosa troveremo la passione della ricerca dice il pathos della ricerca dice un grande neurofisiologo scomparso da poco Pank Zep forse qualcuno di voi lo conosce scomparso qualche anno fa che identifica le emozioni elementari rispetto alle quali il vivente non necessariamente l'essere umano ha potuto costruire i primi apparati cognitivi la prima è sovraordinata a tutte le altre non è affatto il bisogno la fame il desiderio sessuale è la ricerca seeking è la prima cioè mettersi alla ricerca per avere conforto che il mondo in cui mi trovo è abitabile questo canto lo sta dicendo per una classe di viventi che è caratterizzata dal fatto che esperisce in questo modo qua esperisce il differenziato esperisce la molteplicità delle forme attenzione la quale molteplicità glaizam come se anche fosse la stessa cosa della modificazione dei concetti che l'intelletto mi fornisce a priori i quali concetti non sono nient'altro che questa modificazione e questa epigenesi perché è una modificazione epigenetica non si dà ad un colpo e così via vedete quanto tempo c'è dentro il trascendentale quale canto lo sta ripensando come vi dicevo all'inizio di questo seminario in in questo in questa terza critica ultima cosa è una citazione che vi avevo promesso e ora ve la leggo leggiamo anche questo tre minuti vi prendo ancora tra le condizioni della plasticità e della creatività dell'esperienza umana mi piace mantenere i miei pezzi c'è un sentire caratteristicamente aperto al mondo questo è un po' heideggeriano ma pur cosa e insieme capace di prendere le distanze dal singolo ente determinato per coinvolgerlo in un libero giusto se no rimarrebbe sempre quell'ente là in virtù di questo peculiare sentire il vivente che noi siamo incontra un mondo in virtù di questo peculiare sentire che noi siamo il vivente che noi siamo incontra un mondo infinitamente differenziato interagisce con questa ricchezza di potenzialità vi dirò alla fine di questo seminario che l'immaginazione kantiana è un'immaginazione interattiva innanzitutto e per lo più infinitamente differenziale interagisce con questa ricchezza di potenzialità e aggiungiamo provvisoriamente perché fin qui non l'abbiamo incontrato contribuisce a incrementare questa differenziate aumenta la realtà un mondo differenziato ma ordinabile per quanto possibile vi ricordate all'inizio vi ho detto voglio tornare su questo come Kant dice con chiarezza in questo meravigliosa con cui chiudiamo passaggio del sesto paragrafo questa presupposizione vedete come la chiama molto leggera fora o sezung niente di più che una presupposizione della facoltà di giudizio è tuttavia così indeterminata su quanto debba estendersi quella ideale conformità della natura a scopi per la nostra facoltà conoscitiva che se ci si dicesse che una più profonda o più vasta conoscenza della natura mediante l'osservazione debba urtare alla fine contro una molteplicità di leggi che un intelletto umano non può ricondurre a un principio noi pure saremmo soddisfatti vi rendete conto il sistematico Kant ma quale noi pure saremmo soddisfatti anche se preferiremmo è certo ma lo preferisce pure lo scienziato vivente al lavoro in questo preciso momento anche se preferiamo ascoltare chi ci dà speranza che quanto più conoscessimo la natura nel suo interno e potessimo compararla con parti esterni finora e a noi sconosciute la troveremmo tanto più semplice nei suoi principi e nell'apparente eterogeneità delle sue leggi empiriche tanto più concorde quanto più procedesse la nostra esperienza che appunto nei 250 anni che ci separano da quei 230 quanti sono 90 da quest'opera straordinaria la scienza ha continuato sostanzialmente a fare cercare una teoria unificata o la capacità di trovare mediazioni per una teoria unificata non per scrupoli di sistematicità ma perché il nostro modo di esperire funziona così ho detto prima e chiudo qui davvero che il paragrafo 21 prospetto una conclusione provvisoria a questo primo tratto di strada che abbiamo fatto insieme spero con chiarezza perché è quello un pochino più impegnativo e da domani andiamo con un piede più libero è una conclusione provvisoria perché provvisoria perché già nel paragrafo 22 con cui cominceremo domani Kant la rimette in discussione ce l'ha piaciuta tanto la rimette in discussione introducendo qualche cosa che ha a che fare con il problema dell'arte il problema dell'arte nel senso ampio della parola Kunst Tecne è degli elementi di artificialità presenti nella facoltà di giudizio e quindi nell'esperienza umana quindi dobbiamo fare ancora i conti domani con questo tema che ci farà capire perché mai un'opera che dedica un'opera come la critica della facoltà di giudizio che ha 91 paragrafi che dedica all'arte 10 paragrafi 10 se ne occupa se ne occupa perché fa problema per una filosofia critica non perché Kant avesse un qualche interesse per l'arte di cui non sapeva niente e aveva dei gusti pessimi come tutti sanno altro che Hegel che conosceva tutto quello che c'era da conoscere cita la poesia del grande re Federico II e qualche altra non andava in giro non gliene fregava niente quindi c'è un interesse critico per la questione dell'arte che è l'interesse per l'artificiale per l'artificio abbiamo già trovato che l'analogia è qualcosa di costruito è una relazione fortemente costruita vedrete d'ora in poi quanto questo tema dell'analogia diventerà potente in quest'opera grazie per l'attenzione se vi ho un po' affaticati domani andiamo più leggeri grazie ci vediamo un momento grazie 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 grazie